Una scelta vera e propria non c'è stata, perché noi come Comune non abbiamo dato per il momento nessun assenso alla realizzazione dell'impianto geotermico sul nostro territorio. I fatti sono questi, che la società Ischia Geotermia ha fatto una proposta nel lontano febbraio del 2015 e ci ha presentato questo progetto che prevedeva la realizzazione di una centrale geotermica sul nostro territorio, quindi sfruttando l'acqua calda presente nel sottosuro dell'isola Ischia. C'è anche proposto una serie di benefici per il Comune e per la popolazione del Comune di Serra della Fontana. In particolare è previsto un canone annuo in favore del Comune che potrebbe essere utilizzato per abbattere le tasse. È previsto un importo per la disponibilità del suolo che si aggira intorno al milione di euro. Abbiamo chiesto la possibilità di sfruttare il calore prelevato dal sottosuro per realizzare il teleriscaldamento e questo proposto ci è stato accolto. Questo credo sia un elemento importantissimo per i cittadini di Serra e di Fontana perché permetterebbe loro di ottenere calore gratuitamente e quindi permetterebbe loro di riscaldarsi durante l'inverno e di stare freschi durante l'estate. Accanto a questo ovviamente abbiamo una serie di perplessità perché già quando nel febbraio del 2015 i responsabili dell'ischia geotermia sono venuti a presentare questo progetto io subito gli dissi che a mia memoria ci sono degli articoli di alcuni professori universitari che sono molto perplessi e scettici su questo tipo di tecnologie e di iniziativa perché causerebbe un terremoto. Loro mi hanno detto che hanno fatto degli studi approfonditi, che hanno preso delle consulenze e questi eventi così tragici rappresentati non si realizzerebbero io ho scritto all'Istituto Geofisico e Vulcanologia di Napoli al direttore che è il professor De Natale chiedendo informazioni, chiarimenti e un parere su questo tipo di tecnologie e di impianto che si andrebbe a realizzare. Il parere agli atti ed è un parere che è positivo ma non fino in fondo cioè dice che questo tipo di tecnologie non provocano effetti sismici significativi e ha legato anche uno studio fatto da alcuni esperti che conclude che i rischi sono minimi questo non significa che i rischi non ci sono dice che i rischi sono minimi quindi di questo siamo anche noi come comune un po' perplessi e preoccupati tant'è che anche noi come amministrazione di Serena Fontana abbiamo inoltrato delle richieste di approfondimenti al Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e in modo particolare riteniamo pertinenti le osservazioni fatte dal geologo Toccacili il quale, lo ricordo, sosteneva che tutti gli studi propedeutici alla realizzazione del progetto riguardavano siti diversi da quello della Falanga in modo particolare il sito di Ischia e il sito di Forio Ci saranno delle nuove stazioni per verificare i movimenti tellurici e sismici nel territorio? Sì, però sul punto devo con mia sorpresa positiva registrare che già oggi ci sono una serie di stazioni che registrano sull'isola di Ischia tutta una serie di movimenti sismici se lo incrementano sicuramente è un fatto positivo ma già oggi vi è un ottimo sistema di telerilevamento che viene monitorato costantemente nella sede operativa che sta a fuori grutto grazie